2000 persone e neanche un ristorante. Il piccolo comune di vita in provincia di Trapani è un piccolo centro che dopo il terremoto del 1968 ha sofferto l'emigrazione. Qui in municipio lavorano soltanto 5 dipendenti di ruolo, il resto sono contrattisti che aspettano da anni la stabilizzazione. Mancano dirigenti e da due anni non c'è più un vigile urbano, il corpo di polizia municipale, una scatola vuota, un primato italiano. Giuseppa Galifi è la donna sindaco che da 5 anni guida il comune senza più pattuglie e agenti di polizia municipale che potrebbero controllare abusivi, viabilità. Ma come si fa a gestire un paese senza vigili? Difficile, ma bene o male ci conosciamo tutti, anche una parola di richiamo così, anche buon'aria, alle volte sortisce pure l'effetto desiderato. L'ultima gente è andata in pensione a fine 2015, da allora non è stato più assunto nessuno, la pattuglia è rimasta ferma all'autoparco comunale. Abbiamo avuto pure un grosso sostegno dall'armata dei carabiniere, diciamolo pure, quando abbiamo avuto bisogno ci siamo rivolti a loro e ci hanno coadjuvato anche da questo punto di vista. Difficoltà amministrative, dirigenti che mancano, colpa dei bilanci e l'esigenza di far quadrare i conti, l'evasione che supera il 50% e più di 400 mila euro di debiti delle passate amministrazioni che il sindaco si è trovato a pagare. Quotidianamente non si nota molto, è un problema più nei momenti importanti, nelle feste, nei momenti in cui dovrebbero fare rappresentanza o nei momenti in cui c'è tanta gente come per la festa del paese.